Lo scorso anno sono stati impegnati nella scrittura di un cortometraggio imparando i segreti di una buona sceneggiatura cinematografica. Quest'anno proprio il corto ritenuto più interessante diventerà realtà impegnandoli nella produzione. Prenderanno il via a fine mese le lezioni del nuovo stage organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca nell'ambito del progetto Lucca Effetto Cinema. I 20 stagisti si dovranno confrontare adesso sul campo seguiti da un gruppo di insegnanti altamente qualificati coordinati da Cristina Puccinelli, attrice e regista lucchese. Abbiamo selezionato 20 ragazzi che si divideranno per imparare a essere futuri direttori della fotografia, fonici, segretari di edizioni e aiutoreggie. Quindi abbiamo 4 tutor che vengono dal mondo del cinema quindi sono presi proprio da 7 importanti, hanno un bel curriculum alle spalle e saranno dietro durante tutta la settimana questi ragazzi per appunto aiutarli a prendere un po' i segreti del mestiere. Domani e lunedì all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino si terranno i casting per scegliere gli attori che reciteranno nel cortometraggio. Per partecipare è sufficiente presentarsi all'auditorium alle 10.30 del mattino. In verità stiamo cercando diverse tipologie di attori di tutte le età perché addirittura c'è un ruolo per un signore sugli 80, 75, 80 anni e anche signore sopra i 60, ragazzi dai 20 ai 25, 30, donne che possono sembrare slave. Quindi insomma cerchiamo diverse persone, soprattutto attori professionisti e non perché alcuni ruoli sono ruoli molto grandi quindi servono attori bravi e altri sono cose più piccole, magari anche gente che ha poca esperienza va bene. Per tutte le informazioni si può consultare la pagina Facebook di Lucca Effetto Cinema.